Buonasera a tutti amici di YouTube e benvenuti sul mio canale. Ragazzi, Napoli 5 Juventus 1. Veramente una lezione di calcio, quella data dal Napoli alla Juventus. Io pensavo che la partita era molto molto più complicata. Nel video di stamattina infatti dissi che per me la Juve poteva fare il colpo, poi potevo sbagliarmi, come ho detto stamattina, magari ne prendeva i 5. Ecco là. La Juve ha preso fino adesso 7 gol, 2 le aveva prese a San Siro col Milan, 5 oggi sono 7. Quindi una Juventus che tutto quello che non ha preso nelle altre partite l'ha prese oggi. Veramente un risultato molto pesante per gli uomini di Allegri. Un Napoli che faccio i complimenti, complimenti al Napoli. Una squadra veramente forte, gioca bene. A differenza di tanti youtuber del Napoli che l'anno scorso sapevano solo offendere il Milan, quando eravamo primi, dicendo che avevamo culo qua e là. Chi è primo lo merita, per culo o non culo, per una cosa o per l'altra. Chi è primo ha sempre ragione, chi vince ha sempre ragione. Complimenti al Napoli di Spalletti, a tutti i ragazzi calciatori. Sono veramente molto molto forti, quest'anno sono sicuramente favoriti per questo tricolore. Lo stanno dimostrando sul terreno di gioco, facendo partite veramente molto positive. A parte con l'Inter a Milano che hanno perso, hanno giocato male. Ma sono stati veramente molto molto bravi. Quindi complimenti al Napoli, una Juve che deve risollevarsi dopo questa batosta. Il campionato per qualcuno è già finito, per me no. Sicuramente loro sono strafavoriti, ma a venti partite dalla fine dare le sentenze di fine campionato mi sembra molto molto stupido e esagerato. Anche perché se no diamogli lo scudetto e chiudiamo qui la stagione di calcio. Ragazzi un abbraccio a tutti da Gerry. Mi raccomando iscrivetevi al mio canale, vi aspetto numerosi. E sempre forza, vecchio cuore, rosso nero. Ciao a tutti ragazzi.